Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Da quest'anno la Sagra di San Bello, manifestazione storica della Proloco di Berbenno, si chiuderà di Corsa. Domenica scatta l'appuntamento con la prima edizione della San Bel de Corsa, manifestazione podistica organizzata da un gruppo di giovani volontari del paese, che ha deciso di mettersi alla prova sostenendo una buona causa. Raccogliere fondi a favore della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Sondrio. La Lilt Sondrio l'anno scorso ha fatto circa 2000 ecografie, ha fatto un migliaio circa di visite senologiche, ha fatto attività di laboratori di dermatologia, di orologia, e quindi è una gamma di servizi importante che richiede appunto un impegno notevole. Abbiamo approfittato e accolto molto favorevolmente l'invito che ci ha proposto la Proloco Amici di Berbenno di, come dire, metterci al traino della manifestazione San Bello, che è una manifestazione che ormai è consolidata, che ha una vastissima eco e che ha una partecipazione notevolissima. La competizione di circa 9 chilometri è stata studiata a su misura per consentire la più ampia partecipazione possibile. Un percorso adatto a tutti, famiglie comprese. Sicuramente il percorso è adatto a tutti, visto che non è molto lungo, sono al massimo 9 chilometri, e ogni corridore potrà percorrerlo in base alle proprie attitudini sportive. Sicuramente i primi riusciranno a fare un tempo molto molto interessante, ma anche le persone meno allenate sono invitate a partecipare, perché riusciranno tranquillamente a fare tutto il percorso ed arrivare al traguardo senza essere sfiniti. Entusiasta il presidente della Proloco di Berbenno, Franco Muffatti, uno dei principali sostenitori di questa importante iniziativa benetica. Stare insieme, dice, è ancora più bello quando lo si fa per il bene degli altri. Ci teniamo molto, la Proloco tiene molto queste cose qua, perché è molto importante avere un momento di dedicare anche agli altri.